Buonasera, oggi vogliamo parlarvi di uno strumento che risponde alle esigenze di dare un'opportunità in qualche modo di essere uno strumento di inclusione finanziaria. Parliamo di microcredito perché negli ultimi tre anni sono stati erogati finanziamenti di oltre 325 milioni di euro attraverso l'ente che è qui rappresentato dal suo presidente, ente nazionale per il microcredito, qui con noi il presidente Mario Baccini, grazie e benvenuto. Grazie a voi, buonasera. Già ministro per la funzione pubblica dal 2004 al 2006, sottosegretario degli affari esteri, c'è tanto di cui parlare anche sulla politica di questi giorni. Subito dopo i titoli dei principali TG e la nostra sigla. Bagarre al Senato sulle intercettazioni, la maggioranza cerca l'intesa, Conte serve spirito costruttivo, lavoriamo senza polemica, il governo pone la fiducia sul mille proroghe. L'epidemia da coronavirus sulle navi da crociera, polemiche sulla gestione dell'emergenza, un italiano tra i contagiati sulla Diamond Princess. Italiano contagiato dal coronavirus a bordo della Diamond Princess, l'epidemiologo evacuare la nave è un incubatore della malattia. Presidente, benvenuto. E allora abbiamo sentito tanti titoli, devo dire anche questa attenzione all'emergenza del coronavirus, abbiamo parlato con il viceministro Sileri, ha anche tante ripercussioni economiche. Voi cercate di dare un pochino respiro attraverso delle opportunità concrete. A chi sono rivolti? Chi può accedere a questo strumento del microcredito? Il microcredito pubblico, perché noi siamo un ente pubblico che nasce da un appello delle Nazioni Unite per la lotta all'estrema povertà e l'esclusione finanziaria, e il microcredito che noi proponiamo si rivolge soprattutto alle persone diversamente bancabili, che grazie a questo nostro intervento diventano bancabili. E cioè? Traducendolo? Quindi, tradotto in termini concreti, significa che un giovane, una persona che vuole aprire un'attività, oggi va in banca, non ha garanzie e la banca non può erogare nessun credito. Questo è stato uno dei grandi problemi degli ultimi anni del nostro paese, negli ultimi dieci anni, l'accesso al credito, l'esclusione finanziaria. Quindi lo Stato italiano, i governi che si sono succeduti nel tempo, hanno creato un organismo pubblico che si occupasse esclusivamente della non bancabilità. E quindi noi individuiamo queste persone, offriamo la garanzia dello Stato, del Fondo Nazionale di Garanzia, che copre l'80% del rischio, e con dei servizi di accompagnamento, prima, durante e dopo, portiamo a erogazione il beneficiario. Quindi il progetto, e quindi nasce una microimpresa, che ha un effetto leva addirittura di 2,43 posti di lavoro, quindi una persona non bancabile, disoccupata, un rischio comunque sociale per la comunità, un costo con il microcredito diventa un'impresa, diventa un nuovo contribuente, diventa un consumatore, e addirittura assume anche altre persone. Eh sì, lavoro, circolo virtuoso, lavoro, ma anche tasse, no? Che arrivano, che tornano, no? Quindi diventa un contribuente, e da un costo, perché un costo che era prima un disoccupato, quando andava bene era un cliente dei servizi sociali, quando andava male, mano d'opera per la criminalità. Oggi è un'impresa, che ha una dignità, perché i soldi non vengono regalati, ma vengono prestati, microcredito, lo Stato offre la garanzia, lo segue con dei tutor specializzati per seguirlo nel business plan e nella sostenibilità. In modo che funzioni. In modo che funzioni. E è un successo straordinario. Allora, i numeri effettivamente colpiscono, perché parlare di 325 milioni di euro di finanziamenti erogati, lei mi conferma, negli ultimi tre anni, con 35 mila persone impiegate, è un motore dell'economia importante. Ecco, vede, direttore, questo numero è il segno del successo di questo strumento di economia sociale di mercato, perché 35 mila persone impiegate oggi sono un risultato eclatante. Lei pensi che queste 35 mila persone oggi hanno famiglia, hanno la loro attività, creano un volano, creano un volano anche di altre attività. Ecco, la domanda che viene naturale, Presidente, è a chi vengono riconosciuti. Allora, guardiamo con questa fotografia in modo da delineare un po' una fisionomia nella quale tutti voi che ci seguite possono così riflettere e riconoscersi. La maggior parte sono uomini, il 59% e poi donne, per l'appunto il 41%, ma ancora vediamo una grande presenza di italiani, cittadini italiani, il 92%, 37 anni, l'età media, immagino non vincolante però. Non vincolante. Non vincolante. Allora, io partirei da questo dato. Intanto l'ecosistema del microcredito in Italia conta oltre 60 mila persone che si occupano di queste cose. Perché se ne parla poco. Se ne parla poco. Noi sappiamo che ogni buona azione in Italia non rimarrà impunita. Quindi cerchiamo di volare basso. Però siamo molto presenti sul territorio. Ci piace dare una mano perché siamo convinti. Tutti i miei collaboratori. Quando io parlo di 60 mila persone che si occupano del microcredito in Italia, parlo di istituti finanziari, di tutor, di sportelli, di beneficiari. Ma dei navigator? I navigator fanno parte del mondo dell'economia sociale. Sono dei lavoratori che devono occuparsi. Insomma, hanno bisogno un po' di entrare bene in rotaggio. Però ecco, sul microcredito questi dati che vengono proposti sono talmente evidenti che il successo sull'automatismo del mercato, perché noi siamo quelli dell'economia sociale di mercato, è evidente. Quali sono i progetti? Sono tante le storie, no? Dietro ogni finanziamento, piccole, insomma, grandi, grandi realtà, ma su tutto il territorio nazionale. Vogliamo dare qualche volto anche? Come no? Noi abbiamo, per esempio, prima abbiamo visto le donne, le donne sono quasi il 50%, perché risultano quasi le più affidabili nella restituzione. Lei pensi che il microcredito seguito dall'ente nazionale del microcredito, quindi con i nostri tutor, con gli istituti che erogano e quant'altro, ha un default circa del 4,3%, che è molto inferiore al default tradizionale bancario. Questo significa che le persone sono motivate, quindi noi abbiamo giovani che si avvicinano al microcredito, aprono aziende in un momento dove il tessuto anche del nostro paese non favorisce la nascita di nuove aziende, la burocrazia, il sistema dei comuni, tutti i vincoli anche fiscali, quindi non solo le persone che fanno, che usufruiscono lo strumento di microcredito, aprono un'azienda, ma sono anche degli ambasciatori di nuova speranza, perché veramente io delle volte guardo queste persone che grazie al microcredito, ieri proprio ho visitato un bar a Fiumicino che ha aperto la propria attività di microcredito e questi sono veramente degli angeli, perché aprire la seranda alla mattina nel sistema italiano, dove c'è un'aggressione quotidiana, noi dovremmo aiutare queste persone nelle pratiche burocratiche, invece ci sono ancora dei problemi da risolvere. Che comunque anche loro sono esposti a tutto questo. Poi ecco, sono esposti. Il successo è anche le aziende innovative, noi abbiamo molte aziende innovative, giovani che presentano dei nuovi brevetti, che noi li sosteniamo nel settore dell'ambiente, perché il microcredito è un finanziamento finanziariamente sostenibile, cioè che punta, ecco io adesso sto studiando anche di migliorare il prodotto del tasso di interesse. Per tutti coloro che apriranno un'azienda, grazie al microcredito, ma che punta a salvaguardare anche i prodotti dell'ambiente, i temi dell'economia sociale, la sostenibilità. Allora, parliamo anche di numeri, un'altra domanda come se quasi ci stessero in questo momento, ma a quanto ammonta dunque il finanziamento massimo, per quanto tempo? Allora, noi possiamo finanziare per legge fino a 25 mila euro, dopo i primi sei mesi di ammortamento regolare del pagamento delle prime sei rate possiamo dare altri 10 mila euro, quindi fino a 35 mila euro. C'è una proposta di legge che vuole portare il microcredito a 50 mila euro e noi sosteniamo questa proposta. Andiamo a vedere gli altri titoli per commentarli insieme, c'è tanta politica ovviamente. Eccoli. Molta spesa e pochi obiettivi raggiunti, combi un anno il rendito di cittadinanza voluto dai 5 stelle, impiegati quasi 4 miliardi di euro, ma la spinta per la crescita si fermerà a due e mezzo. Circa un milione di famiglie raggiunte dal sussidio per chi perde o cerca lavoro, ma il collocamento non decolla, appena 39 mila gli assunti. Colpo a sorpresa di Intesa San Paolo che lancia un'offerta per l'acquisto di UbiBanca da 4,9 miliardi per consolidare ulteriormente la propria leadership guadagnando 3 milioni di nuovi clienti. Domani si riunisce il CDA di UbiBanca. I titoli volano in borsa. Giustizia e Televiva voterà la fiducia al decreto intercettazioni Renzi su prescrizione e reazione muscolare di Conte. Open Arms, il presidente della giunta Gasparri, chiede di non processare Salvini. C'è economia ma anche politica. Lei è il leader e presidente della Federazione dei Cristiano Popolari, il movimento da lei fondato dopo le esperienze con Udc e Rosa Bianca. Come guarda all'attuale maggioranza di governo sottoposta a sussulti, prese di posizione? Guardi direttore, io intanto sono leader di me stesso. I cristiano popolari sono diventati nel tempo un movimento di opinione, un team tank. Non abbiamo nessuna intenzione di creare una forza politica, un partito, ma vogliamo contribuire dando come società civile, come comunità attenta alla politica, a dare una mano nello studio, nella formazione di idee e di contenuti. Io ritengo a questo proposito che in questo momento viviamo in una democrazia a bassa intensità. Questo è quello che io posso dire perché lo vivo tutti i giorni nel territorio. La rappresentanza è mortificata, nel senso che le leggi elettorali non sono così compiute da rappresentare tutto il corpo elettorale italiano. I partiti nel frattempo, noi non dimentichiamo che siamo e viviamo in una democrazia parlamentare che prevede che il governo risponda al Parlamento e il Parlamento dovrebbe rispondere al popolo. Quindi il popolo dà una delega al Parlamento. E oggi questo non succede. I partiti sono diventati leaderistici e quando va bene il leader, se è illuminato, fa bene. Se è meno illuminato non c'è una democrazia interna che lo corregge in questo senso. E qui si capisce anche questo flusso di 20-30% di elettori italiani che vanno a votare perché poi c'è tutto il resto del mondo che non va a votare. L'ho visto anche nelle ultime regionali. Circa il 60% degli italiani deciderono di non andare perché nel supermercato della politica non trovano il loro prodotto. Uno entra un cittadino elettore nel supermercato, cerca il proprio prodotto, non lo trova, allora o prende un surrogato o prende un prodotto scaduto, oppure se ne va. Secondo lei anche il tema della distanza oggi vede come maggiore responsabilità? Noi abbiamo sostituito, come dicevano i padri costituenti, i partiti con movimenti mediatici dove l'effetto anche mediatico ha superato il territorio, la militanza nel territorio, la sezione, la sintesi, il tesseramento, i congressi, cioè la crescita di una classe dirigente sui problemi della gente, questa cosa è stata superata con una tecnica diversa che io amo definire a bassa intensità, una democrazia a bassa intensità che significa che si deve recuperare perché ci sono molti ceti nel nostro paese, i ceti medi per esempio, i cosiddetti moderati, che non trovano una cittadinanza politica, i loro problemi non sono rappresentati al meglio, l'ascensore sociale mi sembra un po' bloccato in questo momento storico. Ecco, lei rappresenta la realtà dell'ente nazionale per il microcredito, abbiamo parlato quindi di storie, dall'altra una misura molto voluta da questo esecutivo è quella della reddito di cittadinanza, che risponde ad altre logiche, secondo lei è un sistema che funziona? Guardi, io non esprimo un giudizio politico ma un parere anche da tecnico per quello che sta avvenendo, il reddito di cittadinanza è un'intuizione che potrebbe funzionare ma è una proposta ancora incompiuta, ha bisogno di un po' di tempo per affermarsi, cioè il passaggio dal reddito di cittadinanza all'occupazione, quindi io ho proposto quando l'attuale ministro degli esteri Di Maio era ministro dello sviluppo economico, ho mandato una nota al ministro Di Maio dicendo guarda noi siamo a disposizione come microcredito per chiudere l'ultimo anello della catena, quindi significa che i famosi tutor del reddito navigator possono essere in collaborazione con i nostri tutor, noi abbiamo circa 600 tutor in tutto il paese che si occupano proprio di rete, li mettiamo a disposizione di questo strumento per passare dal reddito di cittadinanza all'impresa, all'azienda, al lavoro. E allora noi parleremo di questo nei prossimi giorni perché ospiteremo anche il presidente dell'Inps, Tredico, occasione dunque anche per presentare questo tipo di riflessioni insieme, grazie al presidente dell'ente nazionale per il microcredito Mario Baccini, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie. Vi lasciamo allora un bel film, 110 e lode, torniamo all'università ma in realtà una storia bella di speranza con Gio Pesci e Patrick Dempsey subito dopo di noi, la state per vedere dopo la nostra sigla, ecco quel film che vi aspetta tra qualche secondo ma prima il nostro Dulcis in fondo di sempre, guarda 67 anni fa quando nasceva Massimo Troisi. Noi ci vediamo domani, buonasera.